Terremoto giudiziario in provincia di Trapani, 10 arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale, politico mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, nonché traffico di influenze, violazione di segreto d'ufficio e porto e detenzione illegale di armi. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, è stata eseguita dalla Polizia di Stato, documentata l'esistenza di un connubio affaristico mafioso in grado di condizionare anche dietro corrispettivo in denaro il consenso elettorale, facendo emergere la capacità dell'organizzazione di indirizzare il voto locale in favore del candidato alcamese, coordinatore provinciale del movimento politico via Angelo Rocca, cristallizzando, dice chi indaga, chiari indizi di colpevolezza nei confronti di un ex senatore alcamese, ispiratore del movimento e promotore di una richiesta di voti alla famiglia mafiosa dietro un compenso in denaro pari a circa 3.000 euro in occasione delle elezioni regionali siciliane del settembre 2022. Si tratta dell'ex parlamentare del PD Nino Papania, fondatore del movimento via e accusato di voto di scambio politico mafioso. Avrebbe pagato la somma per far votare un suo candidato all'ARS. Il provvedimento cautelare fa riferimento agli esiti dell'inchiesta avviata nel maggio del 2021 dalla squadra mobile di Trapani e condotta unitamente a personale della squadra mobile di Palermo, della locale Cisco e del servizio centrale operativo. Documentati gli assetti e il rinnovato dinamismo criminale delle famiglie mafiose di Alcamo e Calatafimi in seguito all'arresto dei numerosi esponenti storicamente al vertice delle stesse. In particolare nel tentativo di colmare il vuoto progressivamente creatosi la famiglia mafiosa alcamese avrebbe individuato il nuovo vertice in un pregiudicato locale che avrebbe esercitato la reggenza valendosi di numerosi sodali.